Ci troviamo alla villa comunale di Sciacca dove è in corso un intervento di pulizia e potatura da parte degli operai del servizio sviluppo rurale della regione siciliana e sono gli stessi operai che qualche giorno fa abbiamo trovato all'interno del parco delle terme di Sciacca. Per quanto riguarda la villa comunale nelle ultime settimane c'è e lo abbiamo verificato un nuovo interesse, come sappiamo oggi viene presentato un progetto in municipio che beneficia della collaborazione dell'Università di Palermo e del gruppo dell'associazione guidata dal Preside Parunzio, quindi ci sono degli elementi positivi per consentire alla città di fruire al meglio di questo spazio, di questo polmone verde. Errino Marinello l'abbiamo trovato questa mattina qui all'interno della villa comunale e sta seguendo questi lavori. Comunque dei passi avanti si stanno compiendo, senatore? Sicuramente, io ho iniziato le interlocuzioni con il Dipartimento di sviluppo rurale nel mese di gennaio. Il 31 avevo presentato una nota al comune di Sciacca dicendo che era necessario fare un atto di delibera di giunta per far sì che gli operai della regione potessero venire a lavorare in villa comunale gratis. Sembra strano ma è così perché gli operai dello sviluppo rurale vengono pagati dalla regione. Era necessario formalizzare, non so se è stato fatto o meno quest'atto di delibera di giunta. Questa delibera per dire che la villa comunale è una villa che ha un interesse botanico, paesaggistico, storico e bisognava dimostrare semplicemente al Dipartimento che il comune è proprietario. L'ho seguito nel corso del tempo, naturalmente siamo in un momento particolare, siamo già nel mese di giugno e io l'istanza l'ho presentata il 31 gennaio. Io spero che le cose si possano pianificare anche per gli anni successivi in modo tale che con periodicità e con costanza si possa fare dei lavori di manutenzione e ordinarie e straordinarie per la villa comunale che è un bene che dobbiamo soffrire tutti. Oggi viene presentato questo progetto in municipio, comunque anche questo è un fatto importante naturalmente. Sicuramente, io già avevo partecipato con Panunzio, con la sindaco in quanto facente parte del gruppo Sciacca Pulita e dando la nostra disponibilità come gruppo di volontari che lei sa benissimo, di poter provvedere così domenicalmente a pulire per quanto riguarda le cose che possono restare in mezzo ai viaretti. Quindi è necessaria la collaborazione di tutti e quello che vorrei dire è che quando si vuole una cosa si può ottenere, basta perseverare. E speriamo che si perseveri ancora e che Sciacca possa ottenere ulteriori risultati anche in altri campi con la collaborazione di tutti.